Ma che poi, già ripensandoci, forse alla fine abbiamo fatto un po' una cazzata. Vabbè, amore, che stiamo a fare una cazzata lo sappiamo un po' da tempo. Ci entriamo se su sta cosa, amore, che comunque è più importante. Raga, ma che avete combinato? Ma che abbiamo combinato? Vi siete rovinati la vita? No, ma che dici? Ma che dà? Ma lei, ma troia! Che c'è? No, signorino, aiuto. Oddio, signorino! Papà! Cate, gioia mia, ascolta proprio a tuo. Tu sei l'unico italiano che sei riuscito a far lasciare da una rumena. Ma chi ti ha fatto fare questa ragazza a mettersi con lui? Ma è tuo figlio, eh. Ci facciamo un bel giro a Barcellona. Il traghetto è per tangere e ci siamo. E appena finiamo l'esame andiamo diretti. No, regà, questo non è un viaggio. È un'epopea. Oh, ma voi ci tenete a questo ragazzino che nasce? È certo che ci teniamo. Te l'ho detto che era un suicidio mettesi a guardare, no? Sì, perché c'è sta rosicata. Cambiarle i pannolini, darle da mangiare, stare svegli la notte, non ce la possiamo fare. Cioè, non siamo pronti. Ma guarda che questa è l'età giusta per fare figlioli, poi si diventa troppo vecchi. Abbracci. Sei l'unica che ha detto in una bia, ho fatto una stronzata. E che tia, questo figliolo con l'inazzata faceva? E parliamo, le sediamoci intorno al tavolino. E lì poi ho iniziato a sentire la stronzata proprio qua che mi chiamava, eh. Ma poi tutta la vita che facciamo? Ci baciamo solo tre di noi? Dai, tutta la vita un po' esagerata. Oh, hai detto una cazzata? Ecco, la nostra figlia cedeva il nome che è tipo una parola magica. E nei momenti brutti la fa volare su sto casino che è il mondo. Deve essere tipo, tipo una piuma. Ecco, piuma si dovrebbe chiamare. Come ci torniamo a casa? Aspettiamo un autobus. Se passa. Ci vogliamo tornare a nuota, mo? Sarebbe un'idea. Ah. Aspettiamo un autobus. Grazie a tutti